l'artista esistenziale si conosce da tutti il rinnovo di cristiano ronaldo avevamo detto che c'erano delle possibilità che potessi andare io a quel punto avevo detto anche remote difficili non impossibile non c'è niente perché sono gli equilibri che si spostano in dieci minuti ci mancherebbe soprattutto quando per certi versi uno sceicco di mezzo la possibilità manchester united era naufragata con sancio 85 milioni di euro al manchester e c'era l'opzione c'è ancora per qualcuno pari saint germain ma se non parte ma tutto salta bisogna un pochettino vedere tutta d'incassa la realtà e dei fatti è ben alta nel senso che qui un po mi viene da sorridere perché ronaldo aveva un certo potere che ad oggi non ha più e ve lo disse nell'altro video questo stava verificando a quanto sembra se ne sapremo tutto a fine luglio per quanto riguarda la certezza matematica quantomeno ma ad oggi ronaldo come avevo detto c'era anche delle possibilità chiede di rimanere la cosa particolare l'avevo detto in un altro video c'era anche delle un'altra opzione che pochi avevano considerato lì forse sono stato buon profeta e rinnovo di un altro anno signor ma la cosa particolare la spalmatura dell'ingaggio sapete perché addio i 30 milioni di euro perché il manchester è arrivato massimo a 20 forse gliele avrebbe dati anche quei 30 il pari saint germain ma io non l'ho mai sentito e la realtà dei fatti è che la juve propone a quanto io sappia un ingaggio su 15 milioni di euro la metà perché signori ronaldo a febbraio arriva a 37 e quindi c'è invece questi benedetti 38 sono tanti non discutiamo ronaldo ma gli anni passano per tutti ronaldo ne ha chiesto scusate in mendes da fonti vicine anche a una società quant'altro a mendes 20 milioni di euro quindi certamente non i 31 probabilmente si è reso conto della situazione a quella lì perché poi il reale era arrivato massimo a 25 l'avevamo detto in questi periodi molti 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 mesi fa il manchester non ha mai fatto questo grande rilancio e quindi la situazione attuale è questa 20 biennale signori mendes a 20 milioni di euro 20 e 20 40 la juve dice 2023 15 e 15 30 signori io credo che la diciamo la cosa giusta probabilmente è quello che si verificherà non 20 non 15 arriviamo a una via di mezzo 17 a mezzo 18 dico una cavolata conta poco adesso dove arriviamo però credo che ronaldo non necessariamente possa spingere tanto per quei 20 è vero la juve lo può perdere a parametro zero questo sì però non necessariamente la juve a quel punto io credo che non gli dia tutti quei soldi ma sapete perché lì non è un problema di soldi è un problema di spicolosità vi voglio ricordare signori che anche andrea agnelli non è diciamo un grissino friabile non è tanto morbido abbiamo visto tutto quello che è la spicolosità con conte con del pier e quant'altro lui ha portato in italia anche in parte grazie a paradici col suo elicottero personale cd7 e se si impunta lui lo riporta indietro non stiamo parlando male di ronaldo ma stiamo dicendo che agnelli oggi probabilmente aveva ragione chi riguarda i soldi che già può ancora togliersi lo sfizio ronaldo signori però visto che parliamo di sfizio uno sfizio uno così come ce l'ha per capriccio alla fine decide non averlo più io credo che la juve adesso ha maggiore potere contrattuale quindi vi ribadisco magari si dirà 18 18 e mezzo si arriveranno a metà io credo che la juve non dia a ronaldo quei venti questa è la mia impressione ripeto a prescindere dal rinnovo di di balan faccio una questione perché poi la juve magari lo vende a quant'altro io credo che la juve ripeto abbia maggiore potere contrattuale in questo momento con la mia sensazione intendo se non agnelli proprio il discorso assemblea società aziende e quant'altro ronaldo arrivato a questa età ha capito che in italia va questi 100 mila euro giù di lì sta tranquillo non ha grossi problemi gli altri non hanno fatto gli investimenti su di lui la juve si è resa conto che ronaldo mentre era diciamo fidanzato con la vecchia signora scherzava con altre donniciole quindi un pochettino flertava manchester un pochettino flertava sotto la tour reiffella a parigi e quant'altro credo che l'azienda juve la società juve andrea agnelli una mia sensazione una mia impressione se la sia legata al dito quindi loro le valutazioni opportune da quel punto di visto le faranno vogliamo rinnovare rinnoviamo ma rinnoviamo alle condizioni della società questa è una mia sensazione non parla di nessuno l'artista esistenzialista buonasera a tutti